A proposito, ho incontrato Patrick, sembra che voglio organizzare una cena, ma una sera di questa. Non starai mica dicendo che verrà qui a cena con la sua nuova amichetta! Oh, buonasera! Sono completamente pazzo, direi. È come se succhiasse la vita. Ah, se ci volessi pure i golosi. Come? Io una cosa la so, non bisogna vivere contro se stesso. Grazie a tutti.